Buongiorno a tutti, eccoci online, vedo un po' di cose che scorrono sulla chat di youtube, ci sono un po' di persone da tutta Italia, bella lì, noi mettiamo da Milano, anzi dalla Lombardia, un lockdown per tutta l'Italia, noi vediamo che in questa situazione ci siamo inventati un nuovo modo per fare l'alquino day, l'abbiamo fatto negli anni sussi e abbiamo voluto trovarci anche quest'anno facendo una call alla nostra community per presentare progetti, cose... 1, 2, 3, prova, prova!